Alternava momenti in cui era affettosa, momenti in cui era aggressiva, non si capiva dove, una volta accarezzandola si rigirava ma non si capiva se gli faceva male dietro la testa, la pancia, aveva addirittura, si chiama fascia sardonica, cioè una constrizione dei muscoli, della bocca e del respiro che sembra che ridano gli animali, ora il gatto ha una mimica un diverso dal cane, però sì, erano proprio i sintomi della rabbia secondo me. È stato il veterinario aretino Paolo Barneschi il primo ad ipotizzare un caso di rabbia quando si è trovato di fronte al gatto che poi è risultato affetto dall'Issavirus, un raro morbo in realtà diverso da quello della rabbia classica che ad oggi era stato riscontrato solamente una volta al mondo nel 2002 su un pipistrello del Caucaso. Siamo messi proprio a cercare quale potesse essere la causa di quel comportamento e a me non mi veniva in mente solo la rabbia, non mi veniva in mente altro, nonostante io non l'abbia mai vista in vita mia, però la rabbia non c'è ufficialmente in Toscana, in Italia da anni e anni, quindi la cosa non mi tornava, per cui ho deciso di mandarla a un centro di referenza che abbiano risonanza, attacche, neurologi, ma anche famosi, che potessero fare accertamenti un pochino più approfonditi. Il gatto è poi morto dopo essere stato ricoverato in una clinica veterinaria a Monsummano, ma aveva già manifestato segni di aggressività, tanto da arrivare a mordere la proprietaria, i familiari ed il veterinario che lo aveva visitato. Tutti e quattro sono stati così sottoposti a titolo precauzionale a profilassi. Ho fatto una profilassi antirabbica, però è un virus leggermente diverso dalla rabbia, quindi non so nemmeno se questa profilassi funziona realmente oppure è inutile perché non si trasmette all'uomo. Intanto il sindaco di Arezzo, dopo aver disposto il sequestro degli altri animali della proprietaria del felino deceduto e dopo aver imposto l'obbligo ai cani di passeggiare sempre al guinzaio, anche se muniti di museruola, ha emesso un'altra ordinanza immediata che vieta l'accesso al tombamento del torrente Castro. Non credo che ci sia una grande richiesta dei cittadini di andare lì sotto, ma noi li abbiamo vietato espressamente perché nel tratto tombato del Castro c'è ormai è noto una numerosa, cospicua colonia di pipistrelli e siccome il virus, l'issavirus al gattino è probabilmente arrivato da un pipistrello, perché l'unico caso precedentemente a questo è stato isolato nel 2002 nel Caucaso a carico di un pipistrello, si è ritenuto opportuno di vietare l'ingresso a questa infrastruttura dai due lati. Da domani, infine, i ricercatori dell'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale delle Venezie eseguiranno uno screening sui pipistrelli presenti in una colonia in città. Per rendersi conto se questo fatto è un fatto isolato, cosa peraltro molto poco probabile, o è un fatto endemico, cioè se la popolazione dei pipistrelli che vive ad Arezzo è affetta da questo virus e quindi è in grado di trasmetterlo poi agli animali.